Finalmente si torna a parlare di calcio giocato, si torna a parlare del Parma e della Serie A Due cose banali, la prima che il Parma con i big gioca meglio, si esprime al meglio e quindi aggrattiamoci a questa cosa La seconda è che per la legge dei grandi numeri l'Atalanta si dovrà fermare prima o poi Perché viene la 6 vittoria di fila, la squadra per formare il campionato, al bomber del campionato Una squadra straordinaria, collaudata da anni Volevo registrare il video con il computer, l'ho fatto 4 volte, purtroppo non mi salvava mai il video Adesso vi leggerò un po' così, purtroppo devo farlo in questo modo qui Qualche statistica che vi farà ancora più caccare sotto per la sfida di sabato Atalanta ha vinto le ultime 6 sfide in Serie A contro il Parma Perfetto, il Parma ha perso tutte le ultime 3 gare a casa Ling Con l'Atalanta, pensate che nelle precedenti 18 partite il Parma aveva perso solo 4 volte E nelle precedenti 18, quindi altre 18 prima, il Parma aveva perso solo 2 Questo ovviamente è dovuto alla favolosa, straordinaria ascesa, crescita dell'Atalanta E purtroppo molti anni bui, dal 2015 in poi, per noi 83% delle volte le sfide del Parma sono sempre finite con un gol per entrambe le squadre Quindi il Parma e il nostro avversario almeno un gol l'ha sempre segnato E' successo invece il 58% delle volte all'Atalanta Una statistica invece che può, tra virgolette, controbilanciare la cosa Che in tutte le gare dell'Atalanta, in tutte le gare, almeno due gol ci sono stati Sperando che sia proprio uno loro e poi uno nostro Sul fatto che l'Atalanta segna un sacco di gol C'è una cosa che ho letto adesso che mi fa spaventare non poco Al fatto che fa ridere la frase Benigeca al centro dell'attacco Perché Pecch lo mette come centrino dove ci mette poi sopra la tv Oppure come dono delle polizie Come statuetta che c'è un figo da mettere nell'armadio Dello scaffale Ma non lo metterà mai appunto a centrale E la cosa è che potrebbe esserci una chance per Ciccizzola I più distratti diranno, per non direvi peggio I più distratti diranno che Ciccizzola È stato un artepice dei 13 clisheet che il Parma aveva fatto in Serie B No, assolutamente Insomma, i clisheet erano dovuti, lo dico sempre Al fatto che il Parma nel complesso, non alla difesa Ma nel complesso era nettamente superiore alle altre Molto spesso, noi facciamo degli errori in difesa Ma la qualità degli avversari, diciamo, che ci salvava Pochi ricorderanno la partita orrenda, orripilante di Ciccizzola contro Udinese Colpa sua, quasi tutti i tre gol, se non tutti Che ha tutte le attività che vuole, espressione di Ciccizzola, di Chietà, eccetera Però non esce, non ha sicurezza alla difesa Non ha indicazione alla difesa Già il Parma alla difesa di suo non si cura Figuratevi con uno ancora più insicuro di loro Io ho molta, molta paura a pensare Con l'attacco straordinario, stradipante dell'Atalanta Avere Ciccizzola in porta davvero mi fa altamente rabevedire Non so veramente descrivere il disprezzo e il disgusto che ho Del sapere che posso giocare lui Il Parma all'Atalanta sono le squadre che tirano di più nella prima mezz'ora Incredibile, me l'hai detto 58 tirano noi a 51, tra l'altro tiriamo di più L'Atalanta potrebbe fare il gol, il record di gol Nel primo e 13 partite di campionato se segna contro lui Perfetto Mazzata finale L'arbitro Manganiello, il Parma con lui Ha perso 6 volte su 11 Direi che questa è la chiusura perfetta Per descrivere la partita di sabato Cercare di vadare basso verso la squadra Però stavolta è dovuto soprattutto di più Alla grandissima, straordinaria forza Veramente dell'Atalanta Che non si può fare altro che applaudire Una società, una squadra del genere Un saluto, al prossimo video Ciao